allora eccoci qui a chi energy anche quest'anno presenteremo la nostra novità a partire dal top con in type un bifacciale con potenza fino al 435 e presto anche 440 quindi bifacciale top con in type quindi un rendimento molto alto efficienza molto alta dimensioni ridotte quindi adatto per il residenziale un'altra novità abbiamo abbiamo il piacere di presentare la gamma colorata partire dal terracotta ma anche disponibile in verde e in grigio questo per l'italia per i centri storici per i vincoli passeaggistici è molto richiesto quindi integrazione architettonica totale fino a una potenza di 360 molto alta considerando le dimensioni molto piccole e poi finiamo con la novità dei moduli integrated back contact all back contact quindi moduli di integrati come vedete non ci sono le bus bar quindi esteticamente perfetto tecnologia abse o ips e quindi integrata cellula in type disponibile fino alla potenza 460 con misure molto piccole 1,7 per 1,1 quindi perfetto per il residenziale non solo a livello estetico perché l'estetica importante però attenzione la tecnologia e le celle in type l'efficienza fino al un'efficienza molto alta quindi un'efficienza che fa la differenza sono le principali caratteristiche di questo modulo non solo l'estetica vi aspettiamo qui a chienergy di 3 1 a presto Grazie Grazie.